In studio con noi ci ha raggiunto il sindaco di Como, Mario Lucini. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti. Innanzitutto che cosa risponde al consigliere rapinese? Che si è sbagliato su un po' di cose in questi giorni. Direi tre sostanzialmente. La prima ha detto che io avrei preso la scusante del cantiere delle paratie per questo crollo, cosa che assolutamente non ho fatto. Fortunatamente le interviste che ho rilasciato il 29 sono ancora su alcuni siti internet. Ho detto come in passato non avevo avuto problemi a denunciare correlazioni tra il cantiere e l'esterno, in questo caso non ho elementi per ipotizzare un collegamento tra il crollo e il cantiere delle paratie. Mi hanno chiesto se lo escludevo, ho detto beh escluderlo non posso, però non vedo elementi di correlazione. La seconda cosa su cui si sbaglia riguarda il rispetto dell'ordinanza del marzo del 2011. Secondo il consigliere Rapinese addirittura si era consentito il passaggio di tutti i mezzi di linea di ASF. Io ho verificato, ho riscontro via mail di oggi dal direttore di ASF, Ingegner Torreggiani, che mi conferma come i mezzi con massa superiore alle 20 tonnellate non sono transitati da lungo l'aria Trieste dal 18-3-2011 a oggi. Quindi mi conferma che questo passaggio non c'è stato. Soltanto i mezzi più piccoli potevano passare, meno pesanti. Esatto, sotto i mezzi con massa superiori a 20 tonnellate, che poi qualcuno sia, qualche altro mezzo di altro genere possa essere passato, non posso escluderlo. Come non posso escluderlo che qualche cittadino abbia passato un semaforo con rosso senza essere sanzionato. Però i mezzi di linea, per i mezzi di linea, è stato rispettato secondo quanto dice ASF. Arrivando al giallo dei camion? Il giallo dei camion, anche qui viene citata un'ordinanza che mi stupisco non sia stata letta tutta. Infatti il punto 4 dell'ordinanza esplicita chiaramente il divieto di transito dei veicoli sul ponte della Darsena. Tra l'altro trattandosi di un'ordinanza con occupazione di suolo pubblico, all'autorizzazione, era allegata la planimetria con la collocazione dei mezzi di cantiere. Esattamente, che erano vincolati a sostare nella zona all'innesto tra Corso Largo Leopardi e Lungolario Trieste. Quindi all'inizio della Darsena, il pallino con la crocetta è il punto del cloro, quindi a una distanza di circa 30 metri dal crollo. La gru era in Largo Leopardi, se non sbaglio, con un lungo braccio arrivava dove doveva arrivare, ma i mezzi non passavano comunque al strato di Lungolago? No, i mezzi avevano la collocazione a tergo della gru, perché la gru prendeva il materiale dai mezzi per... Questa è l'autorizzazione che è stata rilasciata. Quindi secondo lei non sono passati? L'autorizzazione prevedeva che transitassero lungo corso Largo Leopardi e sostassero nell'area di cantiere definita dagli uffici. Io non ho elementi per dire che non sia stata rispettata l'ordinanza. Se qualcuno ha elementi per dire che sia stata violata la norma, ovviamente lo riferisca. Quello che è certo è che il Comune non ha autorizzato, anzi ha esplicitamente vietato il transito sopra il ponte della Darsena. Questo per chiarezza. Velocissimamente ci sono novità per quanto riguarda il cantiere? No, stiamo chiudendo la progettazione definitiva per vedere se riusciamo ad appaltare in tempi brevissimi in modo da riuscire a fare i lavori prima dell'estate, perché se no sarebbe problematico. Parliamo di paratie? No, no, parliamo del ponte della Darsena, certamente. Adesso verrà riaperta tutta la strada, ovviamente con quella limitazione, perché le condizioni verificate dagli uffici sono veramente di grave degrado, per cui la limitazione del 3 tonnellate e mezza non è stata ritenuta derogabile dagli uffici. Sindaco, grazie mille per essere stato con noi. L'appuntamento con lei è rinviato a venerdì sera con Davide Cantoni.